Benvenuti a Mahasci Varatri 2024 Trent'anni fa, la notte di Shiva Ratri, eravamo poco più di 70 persone ed eccoci qui, dopo trent'anni, probabilmente il più grande evento del pianeta Questo è un momento raro della mia vita e un assoluto privilegio e onore di far parte delle celebrazioni di Mahasci Varatri all'Isha Yoga Center Queste celebrazioni sono uniche, queste celebrazioni sono indimenticabili Questo è un momento che conserverò per tutta la vita Porterò questa energia per essere al servizio della madre India La meraviglia della vita non è determinata da ciò che mangiamo da ciò che indossiamo, da dove viviamo La meraviglia della vita è determinata da ciò che accade dentro di noi E questo è un giorno Che questa notte non sia solo una notte di veglia Ma una notte di risveglio Questa è una benedizione davvero e sono davvero molto felice di essere qui. Ringrazio la fondazione Isha, ringrazio Sargur e tutte le persone che hanno organizzato questo e mi hanno dato questa opportunità. Ringrazio la fondazione Isha, 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 ringrazio la fondazione Is 1, 2, 3, 4 Oh, Namah Shivaya 3, 4 La scienza che Adiyogi ha offerto, lo yoga, non consiste nel far scendere gli dei Si tratta di elevare gli esseri umani alla loro possibilità divina La grazia di Mahadeva è incessantemente su di noi Quindi questa cascata di grazia Adiyogi qui, tutti voi intensamente concentrati E questa grande notte canteremo il Mahamantra È il giorno più importante dell'anno e l'unico posto in cui vorrei essere Lisha Yoga Sente È la mia prima volta alla celebrazione di Maheshwaratri C'è stata un'energia incredibile nella folla, nell'aria È semplicemente bellissimo È una vera e propria festa Sono super felice di essere qui Ruttra Maheshwara Bhujanga Bhushan Nelaka and Ruttra Maheshwara Bhujanga Nelaka and Ruttra Maheshwara Bhujanga Yogini Nelaka and Ruttra Maheshwara Vala Maheshwara Bhujanga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti